benvenuti in provincia di bari oggi con la nostra rubrica in campo siamo a conversano per parlare di uva da tavola dove la tavola è solo dopo le mele il secondo prodotto più esportato dal nostro paese e la regione puglia è leader in italia per la produzione di questo prelibato prodotto in questa regione negli ultimi anni si stanno evolvendo e sviluppando tecniche culturali sempre più innovative e sostenibili proprio dell'approccio sostenibile vi vogliamo parlare in questa puntata venite con noi un'uva sostenibile non può prescindere dall'innovazione tecnologica nozione tecnologica vuol dire utilizzo di colonine meteo legate dispositivi digitali con i quali ad esempio si analizza il fabbisogno idrico dell'uva quindi di quanta acqua ha bisogno l'uva pertanto con l'innovazione tecnologica riusciamo a razionalizzare e ridurre l'utilizzo dell'acqua e quindi a salvaguardare una delle risorse più importanti del nostro territorio un'uva sostenibile è legata alla tutela della biodiversità che si realizza attraverso lo sviluppo di tecniche culturali come il sovescio l'inerbimento dei filari l'utilizzo della confusione sessuale che ci permette sempre di più di ridurre se non eliminare l'utilizzo di prodotti chimici sostenibilità significa anche l'utilizzo di un packaging sempre più attento alla salvaguardia ambientale quindi sostituire la plastica il cartone il legno con carta riciclabile per un'uva sempre più attenta alla natura e al nostro ambiente un approccio sostenibile dunque per un prodotto di qualità globale idoneo per un consumatore sempre più attento e rispettoso dell'ambiente realizzabile anche da un punto di vista economico con l'uva alla tavola è tutto ci vediamo in campo alla prossima puntata grazie a tutti